scontro di fuoco tra marzo mazzoli e selvaggia lucarelli il 15 novembre il comune di milano ha svelato i nomi di coloro che quest'anno riceveranno il prestigioso ambrogino d'oro si tratta della massima onorificenza della città lombarda che verrà consegnata il 7 dicembre giorno in cui si festeggia il patronomi a seguito dell'annuncio selvaggia lucarelli si era espressa sulla scelta dei recipienti del premio esprimendo non poche perplessità a riguardo tra i nomi più criticati dalla giornalista troviamo il comico andrea pucci e lo speaker radiofonico marco mazzoli in modo particolare selvaggia ha parlato dei diversi scivoloni dei due per quanto riguarda il comico ha ricordato la battuta omofoba ai danni di tommaso zorzi o i commenti denigratori verso ellish line su mazzoli invece ha avuto da ridire per l'uso di bestemmie nel suo programma radiofonico per ora pucci non ha ancora risposto all'attacco della lucarelli d'altro canto invece mazzoli ha replicato duramente alla giudice di ballando con le stelle il conduttore di lo zoo di 105 si è scagliato contro la donna accusandola di non avere un vero lavoro e di star diffamando la sua trasmissione selvaggia lucarelli a parte che io non ho mai capito che ca asterisco asterisco o fai nella vita e chi ca asterisco asterisco o sei che titolo hai giornalista di cosa e di chi opinionista ma che lavoro è ha iniziato a pubblicare una serie di mi asterisco 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 te sulla sua pagina instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest'anno sono state candidate all'ambrogino d'oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione